Negli anni 80 ci ricordiamo solo due cose. Anzitutto la circolare ministeriale 367 del 1985, ministro Falcucci, che prevede l'abolizione dei bacini d'utenza. E poi dal 1987 al 1992 i cosiddetti progetti Brocca, attraverso i quali il ministero diede vita a sperimentazioni nazionali definite assistite. Gli anni 90 sono invece successivamente conosciuti per una serie di leggi, di riforme più o meno significative, che sono poi quelle che serviranno come terreno fertile per quella che sarà poi anche la riforma Moratti. Allora, le ripercorriamo così in ordine, diciamo un po' sparso, non necessariamente in ordine cronologico. Allora, negli anni 90 abbiamo la legge 97-1994, che è una legge che prevede l'istituzione degli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado. E, sempre nel 1994, un'altra legge era il decreto legislativo, il 297, estremamente importante, perché non è altro che il testo unico delle leggi sulla scuola. Esatto, venne adottato il testo unico delle leggi sulla scuola. Nel 1995, legge 253, vengono aboliti gli esami di riparazione nelle scuole superiori. Poi saranno rientrodotti, però nel 1995 vengono aboliti gli esami di riparazione nelle scuole superiori. C'è poi una legge, la legge 9 del 1999, che porta l'obbligo scolastico a nove anni. Ecco, dicevo che non siamo più in, cioè non sono in ordine cronologico. La legge 249 del 1998, scusate il DPR, 249 del 1998, è importante perché è la nascita dello statuto delle studentesse e degli studenti. È importante perché poi sulla base di questo statuto si verranno formulati anche quelli che sono i regolamenti dell'istituto. Abbiamo poi, importantissima, legge 59 del 1997, che è la prima legge sull'autonomia scolastica, in cui c'è un articolo che decreta proprio l'autonomia scolastica. E abbiamo successivamente, sempre nel 1999, DPR 275, che è un regolamento in materia di autonomia. Quindi, importantissime queste due leggi, la 59 del 1997, che è la legge Bassanini, che prevede un generale decentramento della pubblica amministrazione e all'interno di questa legge è previsto un articolo in particolar modo, per quanto riguarda, dedicato all'autonomia scolastica e poi il DPR 275 del 1999, regolamento in materia di autonomia. Un'altra legge che qua non è segnata, degli anni 2000, è la legge 30 del 2000, che è la cosiddetta riforma Berlinguer de Mauro, riforma che si innesta su quella che è la legge 9 del 99 e riduce, prevede la riduzione della scuola di base a 7 anni. L'ultima legge significativa del 2000 è la legge 62, 62 dell'anno 2000, che introduce la parità scolastica, creando in tal modo, attenzione, il sistema pubblico di educazione e istruzione, composto dalle scuole statali e dalle scuole non statali, che chiedono e ottengono la parità. Per finire, risale all'anno 2000 anche la strategia di Lisbona, che non è altro che un programma voluto dal Consiglio Europeo, programma globale per la crescita e l'occupazione in Europa. Aveva tre obiettivi fondamentali, l'aumento della qualità e dell'efficacia dei sistemi di istruzione e formazione all'interno della Comunità Europea, facilitare l'accesso ai sistemi di istruzione e formazione e aprirli al mondo esterno, quindi quello che è poi il mondo del lavoro.